Guarda, l'unica possibilità adesso è di spingere tutti quanti, perché è veramente difficile, lo dico con tutto il cuore, perché non è facile, un pallizzatore entra, un'altra esce, il giorno dopo viceversa, però l'unica cosa che possiamo fare noi è spingere, e provare a prendere i più punti possibili, è veramente l'unica cosa che possiamo fare, mettere le energie, la gioia, la voglia e sperare che andrà tutto bene. Sì, lo conosco quando ero a 10 anni, quindi c'è, più o meno lo conosco, abbiamo giocato pure insieme, quindi io solo tanti complimenti per lui, perché come si sta comportando, da essere il migliore opposto a essere il pallaggiatore, è tanta roba. L'abbiamo fatto comunque ieri, abbiamo spinto veramente tanto, quindi non è facile, perché è duro, anche perché comunque abbiamo due o tre giocatori che sono tornati dal coronavirus, non sono ancora in 100%, quindi prendendo tutto quanto, sì, ci stava. Però è importante la risposta e quella che abbiamo dato. Speriamo che domani, a mio compleanno, possiamo fare un terzo. Sì, giocano bene, molto bene, quindi dobbiamo essere pronti dal primo appunto fino all'ultimo, prendere i tre punti.